ciao blendiristi oggi voglio farvi vedere come semplice poter creare dei tubi senza utilizzare le bezier no anche se spiegheremo cosa sono le bezier più avanti e come si usano voglio spiegare come realizzare dei tubi precisi senza impazzire nella regolazione le bezier che talvolta possono risultare insomma un po di difficile utilizzo per chi non ha tantissima pratica o per chi non non ne ha ancora capito il l'uso l'uso corretto per creare un tubo utilizzeremo un semplice cubo entrando in edit e avendo poi tutti i vertici selezionati non facciamo altro che premere da tastiera e clicchiamo su collapse cosa succede in pratica tutti i punti si sono collassati in un unico centro quindi noi abbiamo ancora il punto che qui ok e adesso in pratica cominceremo a lavorare sul sulla nostra sulla nostra sulla generazione nostra curva allo sposto al centro per avere un'idea d'accordo per essere meglio visibile per cominciare a costruire la nostra curva chiaramente cominciamo a destrudere questo punto quindi non facciamo altro che creare che creare degli spigoli quindi andiamo a muoverci secondo la costruzione del nostro tubo come vogliamo vorremmo realizzarlo d'accordo quindi vogliamo fare tutta una serie di intrecci di tubo secondo il modello che vogliamo seguire eccetera 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 dopodiché selezioniamo quelle che saranno le curve nei nostri tubi i nostri tubi hanno delle magari delle curve dolci no e andiamo a selezionare il bevel vertice ok che cosa succede che praticamente come potete vedere i nostri vertici hanno fatto il bevel poi per aumentare la nostra curva basta semplicemente girare la rotella del mouse per avere ecco anziché curve spigolose avere curve più dolci quindi più aggiriamo la rotella del mouse più aumentano i segmenti di curva bene fatto questo adesso non ci rimane altro che andare in object mode con l'oggetto sempre selezionato cliccare su object e andare sul tab convert convertiamo adesso la nostra mesh perché quella che stiamo utilizzando è alla fine sempre una mesh convertirla in curve bene apparentemente non è cambiato nulla se non il fatto che entrando in edit mode abbiamo quelli che sono gli strumenti delle curve ok quindi abbiamo cambiato davvero la tipologia di oggetto ok scusate adesso che cosa facciamo una volta che entriamo in edit mode della curva d'accordo andiamo sulle proprietà della curva andiamo sul contesto geometry andiamo dove bevel e aumentiamo il nostro def va bene come potete vedere è comparsa fra virgolette la nostra curva possiamo aumentarne la risoluzione chiaramente in object mode tasto destro shade smooth smooth quindi abbiamo adesso la nostra il nostro tubo è chiaro che la lavorazione se volessimo aumentare quindi allungare il nostro tubo o aggiungere altri segmenti al nostro culto tubo basterà semplicemente con le stud selezionare un vertice con le stud avere la possibilità di muovere la nostra curva in questo caso poi possiamo anche successivamente trasformare questa questo oggetto da da curva d'accordo a a mesh quindi sempre convert mesh adesso abbiamo nostro oggetto che è diventata una vera e propria mesh è chiaro che in questa fase di conversione non è più possibile tornare in curva quindi se noi andiamo a fare convert in curve avremo questo risultato perché non ha fatto altro che prendere quelli che sono i terminali aperti e convertire la nostra mesh in curve quindi questo questo lavoro deve essere fatto cioè la costruzione tubo deve essere fatta tutto prima di convertire l'oggetto finale in mesh bene spero sia stato utile ciao